Risalire ad una vita vissuta 1600 anni fa e alle abitudini, ai valori della comunità in cui esta si svolgeva, tra moltissime virgolette, semplicemente analizzando un osso, un'ulna fratturata insieme al resto dello scheletro rinvenuto nella necropoli di località Camerelle a Pozzilli e appartenuta a Ginulfo. Abbiamo detto in un recente servizio di una consuetudine che ci piace ribadire. Non solo ossa, ma vite. È l'approccio che ispira e guida gli studiosi nelle diverse fasi dell'attività scientifica, a cominciare dai ritrovamenti. Ma cos'è capitato al povero Ginulfo quasi due millenni orsono? Torniamo a chiedere al dottor Vincenzo Giambarbara, antropologo forense presso la Fondazione Neuromed. Questa è una tipica frattura da manganello, c'è una frattura da difesa, si alza il braccio per evitare il colpo diretto. Noi facendo l'analisi antropometrica dello scheletro, misurando le grandezze delle ossa dello scheletro, abbiamo notato che la parte sinistra, cioè la parte dell'ulna fratturata, è leggermente più piccola rispetto alla parte destra. Sappiamo che è l'uso che fa aumentare, fa sviluppare le ossa e quindi probabilmente Ginulfo per un periodo di tempo non ha potuto utilizzare la parte sinistra. E gli studi nel sito della Necropoli portati avanti dal Neuromed sono prevalentemente incentrati sulla ricerca medico-scientifica, alla scoperta della correlazione tra le antiche e le odierne patologie, anche attraverso l'indagine delle abitudini alimentari. Tuttavia, inevitabilmente, le scoperte sono a tutto campo. Gisulfo ha un callo osseo importante, quindi era sopravvissuto a questa frattura, evidentemente perché la comunità lo aveva aiutato e quindi è una delle misure che noi abbiamo, quello della sopravvivenza alle fratture, per stabilire la bontà della vita nelle comunità in cui vivevano i personaggi che poi ritroviamo con le fratture.